penso che nel punto più largo forse sia cosa sarà due metri due metri e mezzo due metri 60 70 non so dopo lo spianto di ieri ci riprovo questa volta dal dall'altra parte sto salendo questo è un grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.